Buongiorno, sono Fabio Bollini e benvenuto a questo secondo video della playlist Risveglio. Mi sono contornato di acqua e caffè perché quello che andremo a vedere adesso è davvero un punto molto importante e quindi voglio avere tutti i miei comfort intorno per parlartene al meglio. Andremo a vedere che cosa? Una delle rappresentazioni, anzi mi espongo, generalizzo che non va bene mai, la rappresentazione che mi piace più di tutti per comprendere come siamo fatti. È quella che mi piace di più perché dà il potere a noi e non ci dice come siamo fatti, come tendono a fare troppi modelli formativi che danno etichette, ti fanno credere di essere così, ti etichettano ed è una cosa bella perché comunque ti fanno vendere dei tuoi particolari ma ti rinchiudono in una gabbia. Mentre invece il protocollo delle treventi spiega come funzioniamo, non come siamo. Noi siamo evoluzione continua, io non sono più quello di ieri, non sarò quello di domani e la stessa cosa vale per te. Quindi scappa da quei programmi formativi che ti etichettano e ti rinchiudono in una gabbia. È bene prendere atto di quelli che sono i nostri talenti e di quelli che sono i nostri spunti di miglioramento che fanno passare per difetti, tra virgolette. Però è anche ottimo sapere perché li abbiamo e come possiamo cambiarli. E le trementi, il discorso delle trementi, la prospettiva delle trementi ci fa veramente capire tutto questo. Allora, essendo il primo video formativo, perché il video precedente è solo un'anticipazione, un antipasso, un'apertura, andiamo un attimino a parlare, prima di vedere delle trementi, del tuo miglior alleato per sabotare e non credere a quello che dico. Perché c'è una parte dentro di noi, che non siamo noi, che ti frenerà nel credere che non c'è neanche bisogno, nel sentire vere le cose che ti dirò in questi video. E voglio parlarne subito, perché comunque è una componente delle trementi. Non so se hai mai visto Shrek, ma in Shrek c'è questo grandissimo personaggio che è il ciuchino. E il ciuchino che cosa fa? Solo una cosa, rompe i coglioni a Shrek. È molto semplice. Chi è il ciuchino? È quella voce interiore che ti rompe i coglioni di continuo. Dalla mattina alla sera. H24, mentre parlo io adesso, mentre sei in bagno, solo mentre dormi non parla. Perché anche lui si riposa. Ma ognuno di noi ha questa voce interna. E ti faccio semplicemente, simpaticamente, vedere un video per farti comprendere chi è il ciuchino e farti rendere conto che è una parte di te che hai che può limitare il miracolo che sei. Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? Non ancora. Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? Sì. Davvero? No. Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? Siamo arrivati? No. Siamo arrivati? Non sei spiritoso? Questo è dai batturi. Questo è dai batturi. Perciò sono tifati cigliocchi. Perciò sono tifati cigliocchi. Ci rimetti tu? Ci rimetti tu? Io la pianto di parlare. Finalmente. Ma ci stiamo mettendo una vita, Shrek. Neanche uno straccio di film durante il muro. Il regno di molto, molto lontano. È lì che stiamo andando. Molto, molto lontano. Va bene, va bene. Ho capito. Ma mi sto annoiando a morte. Allora, trova il modo di trattenerti da solo. Per cinque minuti. Potresti non essere te stesso per cinque minuti? Siamo arrivati? Sì. Oh, finalmente. E il ciuchino è contento, finalmente. Chi è quel ciuchino lì? Che è molto simpatico, quindi non gli si può voler male, ma rompe veramente le scatole. Non ci lascia mai in pace, ci depotenzia di continuo, ci mette dubbi, ci tiene fermi. E il nostro dialogo interno. Vedremo da dove viene, capiremo che non siamo noi e come tenerlo a bada. Ti do solo un consiglio. Per questi video, prima di capire chi è, come funziona, come tenerlo a bada, eccetera, dagli un attimo il sonnifero, ok? Quindi prima di andare avanti, per favore, in questo momento, prendi una pasticca di sonnifero e dalla impasto al tuo ciuchino. Non ti sto chiedendo di credermi, ma semplicemente di ascoltare in maniera neutra, senza quel ciuchino lì. Perché se vuoi un miracolo deve credere anche il ciuchino. Quindi sono sicuro che alla fine lui arriverà dove deve arrivare e ti lascerà in pace. Però sai, vedremo talmente tante cose che ho bisogno del tuo ascolto in maniera neutra, ok? Allora, iniziamo a parlare delle tre menti. Quindi la coerenza emisferica è un concetto troppo tecnico e non andremo ad approfondirlo. Però sappi che quello che vedremo ha a che fare anche con la coerenza dei due emisferi, del cervello che dialogano tra loro continuamente. Allora, in questa foto, che avrai visto in tutti i corsi di crescita personale, è la foto del famoso iceberg. Che cosa fa vedere questa foto? Che c'è una parte che emerge dell'iceberg, quindi che noi vediamo. una parte che non emerge, quindi che non vediamo, ma che è più grande di quella che emerge e poi ci fa vedere che questo ammasso, questo iceberg, è immerso in un materiale, è in un liquido che è l'acqua. Perfetto, andremo a vedere e fare un'analogia delle tre menti rispetto a questa immagine che avrai già visto in tutti i corsi di crescita personale. Però probabilmente mancava qualcosa. Andiamo a vedere. L'unica parte di cui noi ci rendiamo conti di noi stessi, appunto la parte conscia, quindi che vediamo come la parte dell'iceberg che emerge dall'acqua, è la mente conscia. La mente conscia viene utilizzata dal 3 al 7% della giornata. Quindi già qui io mi chiederei, ma come Fabio? Se la usiamo così poco ed è l'unica parte di cui ci accorgiamo, cosa vuol dire? Che il 93% della mia giornata io dormo? Assolutamente sì. I più esperti la usano al 7%, eh? Non so, forse io al 10%, scherzo. Però è veramente così. Andiamo a vedere prima però che cos'è la mente conscia. È la mente che stabilisce obiettivi, che giudica e che prende le decisioni. Quindi è un po' la mente logica, è un po' la mente razionale, è un po' la mente dove facciamo i conti. Però attenzione, che prende le decisioni. A mio avviso questo è il suo potere magico. La decisione avviene nella mente conscia. Spocia lì. È la mente creativa la sede dell'immaginazione e pensa in modo astratto. Per questo tipo di mente, se tu chiudi gli occhi e ti immagini di vedere Fabio che ti parla con le slide, tu sai che stai chiudendo gli occhi, ma per questa parte di mente è la stessa identica cosa. Non riuscirebbe a distinguere, appunto, che è il prossimo punto, tra ciò che immagina e ciò che proviene dall'esterno. E questo è un grandissimo potere magico, lo vedremo dopo. È una mente legata al tempo, quindi che pensa in termini temporali, passato e futuro, scusami, ed è una sede, ed è la sede del ragionamento, delle discussioni, della parola, dello studio. È quella fantasticamente che ha reso possibile la costruzione del mondo materiale che vediamo intorno a noi. È la parte più piccola del nostro cervello, tecnicamente si chiama, diciamo, neocortecce, ci differenzia dagli animali, perché io non ho mai visto un bufalo che prima di migrare attraversando un fiume, un guado, dove può essere ucciso da un coccodrillo, parla con un altro bufalo e gli fa una cosa, amico mio, io non vado di là. Ci sono i coccodrilli. Perché dovremmo andare di là? Io non ho mai visto due bufali fare questo ragionamento e non possono farlo perché non hanno questa parte di mente che invece noi abbiamo e c'è veramente quella parte che ci distingue dal resto degli animali che vanno per istinto e fanno quello che devono fare. Noi abbiamo questo superpotere di prendere le decisioni, tra l'altro in base molto oculata. Ecco, poi vedremo anche come essere troppo in questa parte razionale magari può diventare un limite, però soffermiamoci a capire adesso l'essenza della mente conscia. Ed è la sede della memoria, tra virgolette, che memoria non è, a brevissimo termine, circa 20 secondi, e può gestire da uno negli uomini a tre eventi simultaneamente nelle donne. Questa è una cosa vera perché gli inferi processano l'informazione e comunicano tra loro con tempistiche diverse nell'uomo e nella donna e processa 40 bit di informazione al secondo. Ricordati questo numero qua, 40. Quindi è la parte di mente che tu stai usando adesso vedendo questo video, che già sta dicendo qualcosa su questo video mentre lo vedi. È una grande mente, è la mente che ci ha permesso di dire dell'ingegneria, della medicina, delle formule, grandissima, che prende anche le decisioni. Poi abbiamo un'altra parte di mente, che è quella parte dove prima ci ho definito dormienti. È la mente subconscia. È tutto quel popò di roba che c'è sotto l'acqua e come vedi è molto di più rispetto a quello che emerge. Ed è così anche per noi. Noi abbiamo tutto lì. Infatti lo utilizziamo dalla 93 al 95% delle nostre giornate. Noi siamo sempre subconsci, immediatamente. Siamo subconsci quando scatta un meccanismo automatico di cui noi non ci accorgiamo. E ti faccio questa domanda. Sei sicuro di accorgerti mentre cammini? Sei sicuro di accorgerti mentre guidi? Sei sicuro di accorgerti mentre ti lavirenti, mentre ti metti vestiti? Probabilmente ti fai il caffè, mentre bevi, mentre mangi, mentre mastichi, mentre respiri, mentre ti batte il cuore, mentre le ghiandure sulle nari, se c'erano il cortisolo? Io non sono sicuro di essere cosciente di questo. Infatti non lo siamo. Sono tutti programmi, attività che fa la nostra mente subconscia. È la mente che controlla tutto il corpo. È dimostrato come il nostro fegato in un'ora fa operazioni chimiche che 400 dei migliori scienziati al mondo non riuscirebbero a emulare in un giorno intero di esperimenti. e il nostro fegato da solo le fa in un'ora. Il fegato, solo il fegato, pensa che cosa siamo e tutto quello è monitorato dalla mente subconscia e noi manco ce ne accorgiamo. È una mente abitudinaria, impara per ripetizione, non giudica. Lei prende per vero ciò che riceve e quando lo riceve per abbastanza crea un programma perché quella verità si ripercuote talmente tanto nella mia vita che serve un programma che mi faccia fare determinate cose rispetto a quella verità. Infatti, il ruolo della mente subconscia è semplicemente farci sopravvivere. Ok? Non renderci felici, non renderci dei supereroi, tenerci vivo in base alle informazioni che prende dall'ambiente. Andiamo avanti. Crea il 95% dei pensieri setta la frequenza di emissione. Ecco, qui potremmo starci anni. Che cosa vuol dire che crea il 95% dei pensieri? Che il 95% della voce che hai in testa non sei te, ma è proprio il ciuchino che è la voce del subconscio. Il ciuchino è la voce dei tuoi schemi e programmi e di tutta la roba che c'è nel tuo subconscio. Dopo la vedremo meglio. Intanto prendilo per... Quindi non sei te. E setta la frequenza di emissione. Cosa significa? Che lo stato d'animo, cerco di semplificare, lo stato d'animo che noi abbiamo in un determinato contesto è determinato dal subconscio. Ti faccio questo esempio. Come stai quando tocchi i soldi? Come stai quando vai a guardare il saldo del conto corrente? Stai in un modo. Il stato d'animo. Dopo vedremo anche che cos'è. Non sei te? Ma lo stato d'animo è una frequenza elettromagnetica che è generata dal subconscio. Ok? Ed è importantissimo comprendere il discorso di frequenze perché come vedremo dopo tu puoi ottenere risultati solo in risonanza con quello stato d'animo. Quindi vedere cosa c'è nel subconscio è determinante per capire perché ho certe cose nella vita e come fare per volerne altre. Ed è anche quella, diciamo, descritta in maniera più che superba, non sono neanche nessuno per citarlo, dal grandissimo esoterista Dante Alighieri che con la frase più famosa della Divina Commedia dice e mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Non era in un bosco, non ce lo dico una scuola, ma era esattamente il subconscio, la parte inconscio, tutto quello che noi non percepiamo di noi. Dante dice ho iniziato a guardare nell'inconscio e mi sono perso. E la Divina Commedia è una risalita dal proprio inconscio. e da dove parte la Divina Commedia parte dall'inferno. Quindi ci vuole coraggio per andare a vedere che cosa c'è lì. Detto questo, vediamo che cosa c'è e vediamo come si fa per cambiare. Quindi la nostra vita va avanti grazie alla mente subconscia. È la sede dei nostri comportamenti preprogrammati. Noi siamo un iPhone, quando nasciamo non abbiamo applicazioni e poi quando compriamo un iPhone scegliamo le applicazioni che ci servono in base a quello che vogliamo, le installiamo e le applicazioni fanno quello che devono fare. Esattamente noi siamo così, siamo dei sistemi vergini alla nascita e poi tutte le informazioni che ci sono nell'ambiente che il subconscio riceve nel visibile e nel non visibile dai 0 ai 12 anni, per sopravvivere nell'ambiente di questa informazione lui ci crea dei programmi. Però attenzione, quei programmi lì non hanno lo scopo di farci felici, hanno lo scopo di fare quello a cui serve il programma. Quindi se, vi faccio un esempio, se i vostri genitori mi hanno sempre detto non abbiamo i soldi, non abbiamo i soldi, non abbiamo i soldi, non abbiamo i soldi, perché quel non abbiamo i soldi serviva loro per proteggervi da chissà che cosa, il vostro subconscio, una volta che l'informazione viene ripetuta più volte, poi dai genitori, quindi ha una valenza massima del subconscio, lui crea un programma per tenermi vivo in base a quell'informazione non abbiamo i soldi. E quindi molto probabilmente se per lui diventa vero che non abbiamo i soldi, ci creerà una realtà dove noi non abbiamo i soldi, che non è quanto guadagni, puoi anche guadagnare un milione, ma te lo farà spendere, perché ti ripeto che i programmi subconsci sono come le app del cellulare, fanno sempre quello per cui sono programmati e quando lo fanno non importa se ti rendono povero o ricco, loro sono contenti di fare quello che devono fare, ti si manifesterà una realtà in linea con quel programma. Sappi che la realtà, ne parleremo nel quinto video, è il film del subconscio. Vuoi vedere che cosa hai nel subconscio? Guarda il film che stai vivendo. Perché è quello. Allora, come funziona la creazione di questi programmi? Il 90% dei programmi che abbiamo dentro sono stati creati dal subconscio dai 0 ai 6 anni, che è proprio la fase dove il bambino è più a rischio. Ecco perché è il 90%. E ti ricordi, no? A due anni cosa ti è successo? Probabilmente no, ma neanche io mi ricordo. Quindi va... Lì abbiamo nel subconscio programmi, miliardi di miliardi di programmi che non sono i nostri. Perché dai 0 ai 6 anni non ci ricordiamo quasi niente e subiamo le influenze dei genitori, della casa, delle amicizie, della scuola e della società. Che, per carità di Dio, se nasciamo lì c'è un motivo, ma non sono cose nostre. Oggi la nostra vita è mandata avanti da programmi che non abbiamo scelto noi ed è lì che nasce l'inizio della frustrazione. Noi vediamo benissimo quando c'è un disallineamento delle due menti quando la mente conscia vuole andare a destra. Nella mente conscia tu decidi, quindi tu decidi di far soldi, decidi di essere felice, decidi di volere una storia passionale. Però vivi nell'opposto. Perché? Perché il subconscio ti tira dall'altra parte e abbiamo visto che la realtà è il fil del subconscio. Quindi se nel subconscio tu hai dei programmi che non sono allineati con la tua decisione, vince il subconscio. Adesso ti faccio vedere i numeri. Quello che dobbiamo fare è allineare il conscio al subconscio. Il 9% dai 7 ai 12 anni. Dai 7 ai 12 anni c'è ancora un grande spazio di manovra per la programmazione e lui lì che cosa riceve? Ogni input, ogni input informazionale che riceve nel visibile e nel non visibile e dopo una data, numero di ripetizioni crea un programma. Il programma è anche la verità. Cioè tu vedi quello che per te è vero. La percezione che sono le lenti con cui vediamo il mondo e sono tutti programmi subconsci. Quindi se io e te andiamo in una situazione e io percepisco una cosa e te l'ho posto è semplicemente perché abbiamo programmi diversi. Poi vedremo nel quinto video infatti come la realtà non è conoscibile e dimostrato dalla fisica. E poi ci sono anche le esperienze emozionalmente significative. Cioè quando succede qualcosa di estremamente bello o estremamente brutto lì non c'è bisogno della ripetizione. Il subconscio per proteggerti fa subito il programma. Quindi tutte le cose con le positive benvengano ma noi viviamo in un'epoca dove la nostra infanzia sicuramente è stata bella ma ci sono state delle sfide. Noi abbiamo dentro quei programmi lì e oggi se voglio una vita comunque che mi faccia uscire da quella roba lì che mi ha segnato nell'infanzia devo andare per forza di cosa lavorare nel subconscio. Non è legato al tempo come la mente conscia che riesce a capire passato futuro e infatti è l'origine dei nostri stati d'animo dei potenzianti perché quando penso al passato di solito mi sento in colpa e quando penso al futuro di solito mi preoccupo. Per il subconscio non gliene frega niente. Per il subconscio esiste solo l'adesso. Che informazioni dicevo adesso? Questo è vero. È un macro computer che immagazzini dati nel presente e riceve ed esegue. Riceve ed esegue non giudica. Contiene tutto le percezioni i programmi genetici perché non ci sono solo i nostri programmi. Ci portiamo dietro grazie all'epigenetica il bagaglio come si dice il bagaglio informazione non mi viene del DNA ma c'è un'altra parola genetico il bagaglio genetico di sette generazioni. Sette generazioni sono 500 anni fa. Come stava il tuo trisavolo 300-400 anni fa? Sappi che quelle informazioni le hai nel tuo subconscio. Poi non so se si sono manifestate ma ci sono. Quindi pensa anche solo come vivevano i nostri nonni nel mondo della proprietà privata nel mondo del vita mia morte tua e oggi noi viviamo nell'era dell'abbondanza dell'informazione dove c'è tutto noi però abbiamo ancora quei programmi dei nostri nonni che ci guidano. Quindi vedremo come andare e vite passate che non è importante crederci ma comunque ci sono le informazioni le informazioni non è che tu torni a una vita passata però quando si fanno le regressioni le ipnosi e si va nel subconscio vengono fuori dei film ha poco importanza sapere se quel film è di una vita passata o no l'importante è che viene fuori quel film perché il subconscio è vero e ti condiziona la vita processa guardata milioni di vite al secondo tutto quello che succede nel materiale nel non visibile lui lo immagazzina la mente conscia ragiona a 40 bit al secondo quindi secondo te con una decisione conscia potrai mai vincere il subconscio? ti sto chiedendo se 40 potrà mai essere maggiore di 40 milioni la risposta è no no impossibile negativo errato e è talmente straordinario il subconscio e potente che prevede il futuro mentre per noi prevedere il futuro è una cosa sciamanica ultradimensionale per il subconscio è matematica ha talmente tanti dati che può benissimo prevedere il futuro non lo prevede soltanto in realtà lo crea perché lo manifestiamo vedremo tutto gestisce migliaia miliardi di eventi simultaneamente della sede della memoria a lungo termine dice tutto di tutto di tutto infatti noi ci troviamo ad essere schemi ereditari che camminiamo perché se abbiamo se facciamo un po' di autoanalisi noi siamo i nostri genitori siamo le nostre generazioni che camminano nell'espressione nei ragionamenti nei modi di fare nell'energia chi rompe la catena vuol dire che è una persona che ha una volontà veramente ferrea e prima o poi deve andare a vedere cosa viene il subconscio ok quindi tutta questa roba qua è quella roba che fa muovere l'iceberg a seconda di dove si muove l'acqua di dove tira il vento il vento nella foto va a impattare su una massa che è quella che noi vediamo che è molto più piccola rispetto alla massa al volume di massa sulla quale impatta l'acqua che è molto più grande che è il subconscio quindi nella nostra vita quando noi non ci comportiamo non abbiamo ciò che desideriamo consciamente semplicemente perché il tuo conscio tira a destra il tuo subconscio tira a sinistra ed è come giocare una partita a calcio contro Messi non puoi vincere la bella notizia è che di me non ne abbiamo due conscio e subconscio ne abbiamo tre scusami un'altra terza mente che non dicono nei corsi di crescita personale normale è il Dio che hai in te la tua parte spirituale la parte super conscia che è l'acqua perché in realtà è vero che la parte sotto l'acqua è più grande di quella sopra ma in realtà dove va l'iceberg non lo decide l'iceberg lo decide l'acqua noi abbiamo questo nella nostra vita ed è ovvio che il ciuchino qua cosa sei bevuto c'è una formula che lo dimostra altrimenti non sarei qui a parlarti comunque tiene a vada al ciuchino fai una roba dagli un'altra pasticca di sonnizzo lo mettilo a dormire così ti lascia ascoltare poi ovviamente deciderai la parte super conscia che puoi trovare in 80 miliardi di pagine su google di cui ne parlano e le formule è la nostra parte spirituale è la nostra guida spirituale è la nostra intuizione è il nostro guardiano superiore è il nostro collegamento al campo quantico che vedremo che cos'è che è un campo in cui di energia in cui siamo immersi di amore e intelligenza che tutto per me ne parleremo dopo è la nostra guida spirituale è il nostro intuito è la nostra intuizione è quella vocina dentro che ci ha sempre detto la roba giusta anche quando non l'abbiamo ascoltato è colui che da sopra ti fa andare alla fine dove devi andare è colui che fa succedere le sincronicità è colui che fa succedere le coincidenze che tali non sono è colui che ti fa incastrare eventi fortunati è quella roba lì che so che che so che se ti ascolti dentro sai che ce l'hai la cosa meravigliosa del 2022 è che c'è una formula che ce lo fa vedere così anche la parte più razionale di noi ci può credere ed è l'unica via per vincere il subconscio ok? quindi ascolta bene è solo positivo perché è una parte spirituale quindi nello spirito non c'è negatività no? e sa sempre cosa è giusto per noi e ci mette sempre nella situazione giusta anche quando questa ci fa male è amore incondizionato è la nostra parte di amore incondizionato verso noi stessi è la nostra è la nostra connessione al divino ed è il grado più alto di consapevolezza dell'essere umano i mistici le persone illuminate sono nel loro diventano il loro superconscio già è molto se ci parliamo e se abbiamo la fede l'ingenuità di riuscire ad avere un dialogo con loro ma gli illuminati lo diventano è il nostro protettore la nostra silgezza la nostra unicità non ci sono emozioni depotenzianti ed è fuori dallo spazio-tempo ok? quindi mente conscia è nel tempo passato-futuro la mente subconscia interessata solo al presente la mente superconscia è in una dimensione fuori dallo spazio-tempo cosa vuol dire? dopo ti faccio vedere la formula non ti preoccupare è una cosa molto grande molto potente e ha una velocità di calcolo misurata di infinito allora ti faccio questa domanda infinito può essere maggiore di 40 milioni è maggiore di 40 milioni la risposta è sì ed è lui che va nel subconscio e in base alla decisione che prendi o la mente conscia mette a posto quello che c'è da mettere a posto evolve quello che c'è da evolvere trascende quello che c'è da trascendere pulisce quello che c'è da pulire e agisce in una realtà invisibile quindi bisogna essere molto aperti o avere un percorso di vita o avere avuto delle esperienze o aver studiato tantissimo come ho fatto io per riuscire a a credere a rendersi conto di questo allora quindi tre menti mente conscia mente subconscia mente superconscia questo è il nostro sistema è importantissimo comprendere che tutto questo generi e proietti la nostra realtà soprattutto nel subconscio ma lo vedremo bene nel quinto video la realtà è una proiezione che funziona per vibrazione e risonanza lo vedremo nel prossimo video non voglio anticiparti niente c'è uno strumento che è stato inventato nel 1960 dal dottor Joseph Goodhart che vuol dire buon cuore anche qui il caso non esiste che è semplicemente il test kinesiologico che cosa aveva dedotto questo grandissimo genio che se è vero che il subconscio controlla tutto il corpo controllerà anche il muscolo controllerà anche la corrente che genera il nostro sistema verso la muscolatura è assolutamente scoperto che è vero infatti leggo il nostro subconscio dirige tutto nonché una rete complessa di impulsi elettrici che arrivano ai determinati muscoli stringo quando la mente pensa ad un'affermazione con la quale l'inconscio il subconscio è più o meno la stessa cosa non è d'accordo si crea un conflitto elettrico un cortocircuito che riduce la forza di segnale al muscolo con una diminuzione di forza di quest'ultimo anche dell'80% io l'ho vista anche del 100% cosa significa? che noi possiamo vedere oggi con la mente razionale ciò che c'è nell'inconscio grazie al test inesiologico andatevi a studiare la struttura delle miofibre dei mitrocondri dei sarcomeri della struttura del muscolo se volete leggiamo qualcosa è stato dimostrato che se il muscolo cede nasconde un problema nell'equilibrio tra la condizione strutturale ma quindi il muscolo la materia e l'aspetto biochimico energetico e la condizione psicologica tre aspetti che devono essere sempre in equilibrio quindi quando il muscolo è forte vuol dire che c'è un allineamento fra materia informazione ed energia te la faccio spicciola quando non c'è questo allineamento il muscolo cede pensa quanto ancora al mondo dello sport che si basa sulle prestazioni anche muscolari è indietro visto che non lavora sul subconscio un attaccante che di fronte alla porta è in stress psicologico il gol non lo fa perché la muscolatura cambia un atleta un sollevamento un sollevatore di pesi che è in stress e nel subconscio ha nel suo programma che lui non è un vincente avrà la muscolatura che non funzionerà durante la finale o durante le gare ma questo non viene insegnato ma sono sicuro che nel futuro prossimo lo sarà anche nel mondo dello sport e rimanendo semplici e tornando a noi anche perché stiamo andando fuori tempo come possiamo andare nella selva scura pulire tutto quello che non ci serve e manifestare la vita che vogliamo visto che questo agisce nella proiezione della realtà non nella ricezione nella realtà non si riceve si proietta e poi si riceve decidiamo la mente conscia ce l'hanno fatta per decidere grazie è il dono che ci è stato dato noi possiamo decidere però la decisione sei solo tu se è vera poi la decisione sfocia nell'intento e si vede dal focus e dalle azioni che fai le abbiamo detto nel primo video quindi io ti so dire quando hai deciso basta che guardo cosa guardi cosa cerchi e che cosa fai ma non andiamo nel dettaglio decido con la mente conscia 40 minuti al secondo che cosa devo decidere secondo te di utilizzare le mie facoltà super conscie quindi si chiede un atto di fede si chiede un atto di decisione nei tuoi poteri miracolosi nel tuo super conscio perché finché non decidi che quella roba esiste non esisterà che ha capacità di calcolo infinita di andare nel tuo subconscio e prenderlo e fargli innaffiare il giardino il super conscio il tuo subconscio gli fa fare quello che vuole gli fa tagliare l'erba gli fa dipingere è uno schiavo il subconscio è lo schiavo del super conscio se tu decidi di usare il tuo super conscio perché infinito è molto infinitamente più grande di 40 milioni e il cambiamento del tuo subconscio rispetto ai programmi che non ti servono più è istantaneo se ci colleghiamo al super conscio come facciamo a collegarci al super conscio è semplice dobbiamo essere in frequenza di amore e gratitudine è l'unica cosa che c'è da fare ed è difficilissimo anche se sembra così semplice non è difficile è profondo è profondo è semplice è profondo ok quindi decidi qua di utilizzare una parte di te che non vedi ma che esiste di modificare quella cosa che oggi ti controlla perché quando queste tre menti conscio subconscio super conscio sono allineate sei nel flusso ecco che cos'è il flusso è l'allineamento delle tue tre menti quando la tua parte razionale la tua parte subconscia dei programmi la tua parte spirituale sono tutte d'accordo su una roba tu sei mica cioè te sei un miracolo che crea con le mani in tempo reale e tu ci sei stata nel flusso quindi lo sai cosa ti sto dicendo ci sono stati degli scenari della tua vita dove facevi miracoli con le mani dove tutte le cose si incastravano e non facevi fatica ed eri felice e godevi a eri in frequenze alte di amore sicuramente verso quello che facevi o verso una motivazione per la quale lo facevi che possono essere persone in condizioni particolari che inseguivi come io nel mio lavoro io nel mio lavoro non sapevo niente ma hai fatto network flusso totale tre menti allineate poi ogni tanto avevo dei sabotaggi subconsci da risolvere però l'amore vince tutto perché alla fine il superconscio è amore incondizionato quindi è l'amore che va a scegliere i blocchi del subconscio detto tramete che rimanga qua quando invece c'è un disallineamento delle tre menti allora lì sei nella fatica nello sforzo nel lavoro non ti succede niente il disallineamento è sempre tra virgolette mai generalizzare subconscio perché se tu decidi davvero il tuo conscio è positivo il superconscio è solo positivo perché spirito quindi più più dov'è il meno nel subconscio ok e quindi bisogna pulire lì pulire noi non abbiamo la forza di pulire l'amore che pulisce noi possiamo solo aprire e avere il coraggio di guardare poi dopo succede tutto con un po' di tempo di edizione volontà attenzione però perché c'è un altro sabotaggio la gente che se la racconta se il tuo subconscio è allineato già all'obiettivo perché la tua programmazione è positiva verso quella cosa perché nel subconscio c'è anche tutto il positivo non c'è solo il negativo il superconscio è solo positivo a volte il freno è nella tua mente conscia cioè tu non si sa per quale motivo non hai preso ancora la decisione ti racconti di volere quella cosa hai tutto il subconscio allineato i talenti i programmi per arrivare e non ce l'hai perché te la racconti a livello conscio proprio chissà perché non prendi la decisione ci può stare va benissimo però a volte il sabotaggio il disallenamento è anche semplicemente della mente coscia avendo già tutto a disposizione per arrivare dove vuoi ok il lavoro che cos'è ed è per quello che amo il discorso delle trementi perché vedi ti spiega come funziona il sistema ma ti dà il potere a te ti dà il potere di dire to diventa chi vuoi torna chi sei mi piace di più o diventa chi vuoi è lo stesso è la stessa cosa però ti dà il potere a te se invece io ti dico che sei giallo rosso verde blu ti etichetto ti metto in una gabbia e io sono il formatore che sono un leader e tu sei uno studente che mi ha pagato quindi sei influenzabile da me ti faccio sentire solo giallo faccio un esempio te morirai nella gabbia del giallo perché ti sto creando una credenza che te sei così ok quindi le trementi invece ti danno il potere ti stai comportando così e sai perché ma se vuoi cambiare puoi puoi ok ecco perché amo profondamente le trementi collegate alla coerenza emisferica che cos'è la coerenza emisferica è la coerenza dell'emisfero destra e sinistro razionale e creativo lavoriamo nel subconscio solo quando c'è un allineamento anche dei due emisferi perché l'allineamento dei due emisferi che cosa fa parlo da prima elementare è come il motore va al massimo della velocità e riesce a processare informazioni a velocità altissima se c'è una non sincronia dei due emisferi il motore va piano e non riesce a calcolare alla velocità che serve per lavorare nel subconscio detto da prima elementare il nostro lavoro infatti è allineare è una parola che amo da morire allineare non è diventare distruggere costruire è semplicemente allineare che cosa ok leggiamo allineamento del nostro sistema delle tre menti con se stesso quindi tra le tre menti ci deve essere allineamento e attenzione poi vedremo anche è con tutto quello che ci circonda perché non è vero che noi creiamo la realtà noi la co creiamo la realtà cioè la creiamo in parte nell'interazione con tutto quindi dopo vedremo anche cosa c'è fuori da noi ma è giusto partire dentro di noi le conclusioni di questo secondo video che cosa sono che siamo un sistema iper complesso un miracolo ti ricordi cosa ti ho detto del fegato e se non studi questa roba qua cosa vuoi studiare vuoi studiare non lo so qualsiasi cosa come funziona un motore ben venga ma studia come sei fatto te prima è la cosa più importante sei tu è la tua vita hai solo una chance e quindi giocatela al meglio se non ti conosci probabilmente non riuscirai ad attingere le tue potenzialità per essere felice per avere ciò che vuoi che desideri che meriti quindi siamo un sistema iper complesso che non ci insegnano e non ci spiegano il subconscio dirige la nostra vita perché la sede dei programmi è il 93-97% delle nostre giornate ti faccio un esempio se io adesso facessi questo gesto così sono già subconscio perché? perché il fatto di prendere il telefono e guardare mica la mia mente coscia che lo vuole cioè io non voglio farlo è un programma subconscio perché l'ho fatto talmente tante volte questo gesto che c'è un programma e lo faccio anche quando non voglio e ti dirò che il subconscio è talmente forte che una volta che lo faccio non riesco nemmeno a distaccarmi e lasciamo perdere che cosa esce da qua che mi tiene all'attenzione lasciamo perdere degli algoritmi delle onde lasciamo perdere ma è proprio il discorso meccanico che l'ho sempre fatto e continuerò a farlo anche se non voglio è stato programmato può essere riprogrammato quindi il bello del subconscio è che abbiamo tanti programmi che ci hanno tenuti vivi perché se il ciuchino è la voce del subconscio c'è un motivo il ciuchino rompe i coglioni oggi ci limita però è amorevole non gli puoi voler male al ciuchino hai visto com'è simpatico perché noi al nostro subconscio lo dobbiamo amare ci ha tenuto vivi i programmi ci sono serviti per vivere poi una volta che iniziamo a vedere cosa c'è dentro è anche giusto che noi possiamo riprogrammarlo in base a chi siamo oggi e non posso avere i programmi di quando avevo 5 anni perché a 5 anni vivevo da un'altra parte con altre energie in un'altra epoca con altre frequenze con i miei genitori che erano altri oggi sono un uomo sono un adulto di 38 anni voglio altre cose basta che guardo con amore e vedo quello che devo ancora superare e sciogliere ed è bellissimo e questo succede in maniera istantanea in frequenze elevate il flusso che cos'è l'allineamento delle trementi e il disallineamento è sempre nella maggior parte dei casi subconscio perché quello conscio è facile da vedere cioè tu lo sai quando te lo racconti non c'è bisogno che io ti faccio vedere che te la racconti lo sai da solo lo vedi da solo e quindi puoi scegliere di decidere e andarti a prendere quello per cui sei predisposto col tuo subconscio e superconscio mentre invece il disallineamento subconscio è molto sottolo non lo vedi non lo vedi io ti devo far capire te lo devo far vedere ti devo portare per mano come fa Virgilio con Dante a vedere i sabotaggi che hai nel subconscio nell'inferno l'inferno non è il subconscio è il viaggio attraverso il subconscio che diventa un inferno perché comunque è doloroso tra virgolette ci vuole molta molta forza interiore tu non sei il tuo dialogo interno perché il dialogo interno abbiamo visto che è la voce del ciuchino che è la voce del subconscio dei programmi delle percezioni di tutte le informazioni i programmi che mi sono stati dati per sopravvivere ma che non hanno niente a che fare con chi sono io oggi quindi è la sua voce dopo ti dirò anche cosa fare per costruire il ciuchino che ti serva oggi che ti faccia sopravvivere oggi e che ti spinga verso quei desideri come sarebbe il cartone se il ciuchino invece di dire quando siamo arrivati quando siamo arrivati quando siamo arrivati si mettesse davanti alla carrozza a trainarlo a trainare la carrozza ancora più velocemente come sarebbe avere un ciuchino che mi porta verso quello che desideri invece che mi frena si può fare non sei il dialogo interno non sei le tue percezioni quindi non sei le voci della mente non sei neanche lo stato d'animo che è pensiero più emozione insieme non sei quella roba lì quella è la tua macchina biologica che ti butta fuori percezioni subconsci sono programmi io i miei te e i tuoi erano bene così basta solo vederli e vedere cosa fare allora ti do un esercizio scrivi su un foglio di carta ciò che vuoi una volta allora no non ti do questo esercizio qua questo te lo do quando ti parlo di realtà e di fisica ti ne do un altro prenditi un quaderno qua un blocco un blocco e inizia su questo blocco lo intitoli il mio ciuchino e quando vuoi ti consiglio una volta al giorno scrivi in terza persona le tue percezioni ma non le scrivi in prima persona in terza persona invece di chiamarlo ciuchino lo puoi chiamare il mio sistema subconscio la mia macchina biologica come la chiama Salvatore Brizzi e che ringrazio perché da lui ho imparato tantissimo ringrazio Giovanni Vota devo fare ringraziamenti li farò ci sono anche le slide nei prossimi video e dare credito a chi ha ovviamente dato questa informazione al mio sistema allora tu qui cosa scrivi ti faccio questo esempio io stamattina mi sono svegliato che è lunedì con il senso del dovere eppure non ho bisogno di lavorare non ho bisogno di soldi sono libero ho le mie grane da risolvere ma sostanzialmente mi sono costruito una sorta di situazione tranquilla perché mi sveglio col senso del dovere perché che io mi sono costruito tutto per stare libero perché ancora non riesco ad accedere a quella sensazione di libertà quando mi sveglio col senso del dovere che cosa scrivo il mio ciuchino o la mia macchina biologica stamattina ha provato senso del dovere nonostante non ci sia bisogno di dover fare niente punto io devo disidentificarmi distaccarmi dalle mie percezioni se voglio iniziare a pulire il subconscio perché il primo esercizio da fare è capire che non sono io come faccio a capire che non sono io si può fare mentalmente ma è difficile se sei abituato alle visualizzazioni se lavori un po' su di te puoi farlo ma è facilissimo invece scriverlo perché tu lo vedi come un'altra persona che non sei te lo scrivi in terza persona e scrivi lui cosa provava questo esercizio ho fatto tutti i giorni da solo senza sforzi senza fatica senza tecniche segrete senza la tecnica del guru ti distacca da quella roba lì che continuerà a succedere ma vedrai che via via si attenuerà si attenuerà e si attenuerà soprattutto se nel tuo lavoro di scrittura lo fai con quella compassione o con quell'amore che faresti quando parli del ciuchino di Shrek quindi vedi magari glieli fai vedere le cose che non vanno però non lo odi lo ami per forza il ciuchino perché è simpaticissimo perché è l'amore che fa il lavoro attenzione quindi non puoi essere incazzato la mia macchina biologica di merda stamattina mi fa stare così la odio non la voglio più ecco quello non sistema niente è sempre l'amore che è l'energia più alta che c'è nell'universo di cui è composto il campo di energia in cui siamo immersi ti spiegherò nel video della fisica che sistema le cose non siamo noi che lo sistemiamo quando noi accettiamo questo amore passa attraverso di noi e scioglie quello che deve sciogliere e sistema tutto ma non siamo noi che con gli occhi lanciamo l'amore noi accettiamo se accettiamo ci apriamo diventiamo canale se non accetto mi chiudo e l'amore non passa e l'amore che esistema non siamo noi siamo molto più piccoli di quello anche se una parte di noi è composta da quello quindi io scrivo semplicemente tutto quello che voglio migliorare delle mie percezioni subconsci in terza persona le butto fuori da me non sono io è il mio sistema la mia macchina biologica che mi manda su quelle robe le devo disidentificarmi da me perché se perché se invece io mi immagino quelle robe mi immagino quelle sensazioni e io divento quelle sensazioni io divento il problema e se io sono il problema non posso risolverlo io posso risolvere un problema quando è qualcosa di esterno quindi butto fuori immediatamente tutte le mie la mia vocina interiore legata alle emozioni che dà il mio stato d'animo ok quindi se voi oggi volete stare in un modo e non state in quel modo lì e state in un altro modo quell'altro modo lì non siete voi la vostra macchina biologica il vostro ciuchino sono le vostre credenze subconsci le mettete su carta e amorevolmente le descrivete giorno dopo giorno giorno dopo giorno giorno dopo giorno allora in un anno questo esercizio fa un miracolo un miracolo grossissimo in un mese già fa un lavoro straordinario e attenzione perché come ogni cosa come ogni cosa che ha un grandissimo risultato in ugual misura a livello energetico richiederà un grande sforzo sacrificio dov'è il lavoro grande da fare in questa cosa che sembra semplice nel farlo senza vedere i risultati ecco dove lo sforzo è come l'erba dice Salvatore Brizzi cioè tu l'erba non vedi che cresce ogni giorno ma dopo un mese la devi tagliare perché è cresciuta è esattamente così tu non è che fai questo lavoro un giorno e vedi o senti niente ma dopo un mese te ne accorgi in maniera importante ok quindi il lavoro lo sforzo da mettere qua per ottenere risultati è nella fede nel continuare a farlo senza vedere i risultati spero che questo secondo video sulle tre menti sul subconscio sul conscio sul superconscio sul flusso sull'allenamento anche le conclusioni ti sia piaciuto ti aspetto al terzo video ma non prima mi raccomando di aver messo in pratica perché ti ricordo che la tua intenzione sfocia nelle azioni e quindi se è vero che vuoi andare verso un risveglio verso un allineamento verso la felicità verso quello che succederà fai l'esercizio mi raccomando a presto e ci vediamo al terzo video